Bene! Aiuto! Oh, al duro! Bellissimi! Chi di voi ha già limbato? Ah, c'è qualcuno? Ah sì? A 12 anni, a 12 anni anch'io. A 12 adesso ne hai 15, va bene, dai. L'ordine in cui passerete sotto il limbro sarà esattamente l'ordine in cui vi trovate adesso a partire dalla nostra meravigliosa Electra Bionic. Ah, sono la prima, non posso neanche prendere spunto delle altre, oddio! Ciao! È limbo sia! Io questa nona, dove vado? Oh! No! Io sono vecchia, ho lo stuporosi! Vai, vai! Vai, vai! C'ho a farla. È impossibile fare il limbo con Chad in quel modo. Ma io manco quando mi metto a 90 solito così. Lei intendeva quando pulisce casa. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, ho! Vabbè.